E voi mi chiederete? Ricorre oggi, giovedì 21 marzo, la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Una data che unisce l'Italia nel ricordo di persone che hanno sacrificato la loro vita per combattere la criminalità organizzata. Per l'occasione a Fossombrone, nell'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Donati, si è svolto un incontro tra forze dell'ordine e studenti. Estremamente importante, non solo per questo istituto ma per tutti i ragazzi di Fossombrone. Una giornata che ricorda quante persone lavorano dietro questa piaga, quante vittime ci sono state ed è giusto che loro sappiano come rapportarsi anche con le istituzioni. Sappiano che le istituzioni qui rappresentate sono vicine nel proteggerli e nel cercare anche di portare testimonianza affinché questi ragazzi abbiano uno scorcio del vissuto di quello che è stato, con la speranza che il futuro sia più roseo e il futuro non debba per forza far ricorso a tante vittime. Condividere queste giornate con i nostri studenti ed in generale con tutta la comunità scolastica è fondamentale. Quando si parla di ordine, sicurezza pubblica e tutela della legalità c'è bisogno che si superi quella naturale spersonalizzazione che ci rimanda in qualche modo al concetto di istituzione come un qualcosa di lontano da noi ed ecco che abbiamo voluto dar voce alle persone, quindi non semplicemente alle massime rappresentanze dello Stato a livello territoriale ma alle persone a come nella loro quotidianità ogni giorno si impegnano per garantire la sicurezza di tutti noi. Una giornata fondamentale ha dichiarato il prefetto di Pesaro Urbino Emanuela Saveria Greco. Testimonianze e approfondimenti sul significato di cultura mafiosa hanno arricchito l'incontro. Parlare della cultura mafiosa che è una cosa diversa, la cultura mafiosa è quella del bullo, la cultura mafiosa è quella che muove la mano di un uomo contro una donna, la cultura mafiosa è il revenge porn, è tutto quello che si fa su internet per offendere, per prevaricare. Ecco quindi gli studenti devono comprendere che la mafia la combatte lo Stato ma la cultura mafiosa la dobbiamo combattere tutti e tutti insieme. Si è parlato di cultura mafiosa qual è la situazione sul territorio della provincia di Pesaro Urbino? Allora se si parla di mafia diciamo che non abbiamo evidenze della presenza della mafia nel nostro territorio, questo mi sembra un'ottima notizia. Se si parla di cultura mafiosa e quindi di bullismo piuttosto che di femminicidio o altro, beh questo purtroppo è una cultura diffusa che deve vederci tutti quanti fare squadra. Testimonianze, racconti, quanto è importante condividere queste giornate con gli studenti? È importantissimo perché noi tutto quello che potevamo fare o quasi tutto perché un po' di tempo ancora ci rimane l'abbiamo fatto, dobbiamo per forza passare il testimone a questi giovani i quali forse sentendo dalle nostre voci episodi che sembrano magari lontanissimi prendono ancora più coscienza di quanto sia importante il lavoro che loro faranno quando noi finiremo il nostro. Avete realizzato un sito web con all'interno tutte le informazioni riguardanti le organizzazioni criminali. Come nasce il progetto? Allora inizialmente quest'idea nasce diciamo da un progetto che veniva attualizzato in maniera individuale abbastanza nella classe, massimo nel piano, nell'istituto tecnico e successivamente ci siamo messi in gioco abbiamo deciso di attuare questo sito a partire da febbraio quindi c'è stato anche abbastanza lavoro dietro la realizzazione di tutto il sito siamo orgogliosi di essere qui oggi il 21 marzo con il nostro sito a rappresentare quella che è la memoria e il ricordo di tutte le vittime mafiose abbiamo deciso di realizzare questi siti attraverso Wordpress che ci ha permesso di facilitare quanto riguarda le tempistiche, la realizzazione dei siti e abbiamo deciso di parlare in maniera generale di quelle che sono le quattro organizzazioni mafiose italiane quindi Cosa Nostra, Landrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita e abbiamo realizzato questi siti per diciamo divulgare tutte le informazioni di queste organizzazioni criminali e ci siamo anche interessati anche alla ricerca su queste informazioni magari che non vengono quotidianamente ricercate in maniera autonoma e quindi possiamo dire che siamo grati di essere qui oggi e di presentare il nostro sito in questa importante giornata Terracciano Valentina Presente Vazia Verani Verde Gezzomina Presente studentessa di Turani